Ciao amici di Teletrof Games, torniamo a parlare di Goals, questo nuovo videogame che sostanzialmente prima viene a UFL a livello di sviluppo, di partnership, di leggende, sicuramente ha maggior appeal in questo momento, però anche Goals sembra avere le carte in roga e regola per comunque suscitare interesse, poi dopo il videogame ancora non si è visto nulla, esattamente come UFL a dirla tutta e quindi staremo un po' a vedere. Comunque inizio a ringraziare Alessandro Villanova che è stato lui a segnalarmi in primis che è uscito il sito ufficiale di Goals.com, non .com, non sappiamo perché magari per me era stato già preso Goals.com e quindi si sono spostati su Goals.com. Qui si può vedere il trailer ma non ci interessa perché lo abbiamo già segnalato e poi non è che mostra più di tanto. Ci interessa invece scoprire che esiste già un team di Goals perché sembrava che stessero ancora cercando tutti, in realtà c'è Eric Soderbergh, Liza Lindh, Ampus Erikson, Goran Siebergfalguera, Kurt Fenec, Alicia Nilsson, Stina Blomquist, Franz Perers, Andreas Tortnenson, Jans Anderson, Joanna Kerikson, Jonas Erikson, Rebecca Buurgard, Jonas Bergstrom e poi anche Ampus Olson e Merrick Cacici e Mike Sacri. Lo sapete è una software house da questi nomi, penso che l'abbiate capito, svedese e comunque si sta ancora allargando il team visto che qui si può vedere che sono ancora alla ricerca di un talent partner, un senior gameplay software, un gameplay software engineer, un DevOps engineer, un UI artist, AI software engineer, executive producer. Quindi come dire, si stanno stanno andando avanti sui lavori ma io penso che ci sarà da aspettare ancora un bel po' per vedere il gioco nella sua forma sostanzialmente completa o comunque giocabile per così dire. Però però ci sono anche altre informazioni interessanti, io vorrei cercare di tornare a vedere il sito ufficiale, eccolo, devo andare su goals.co, eccolo così è meglio, torniamo a schermo intero che è più glamour. Allora, sono venute fuori tante tante informazioni su goals che ha rilasciato la software house sostanzialmente. Allora, cosa possiamo sapere? Possiamo sapere che le partite dureranno 12 minuti, almeno nella loro forma competitiva sostanzialmente dovrebbe essere questo, ci sarà una durata di 12 minuti per partita. Ci sarà una modalità 1 vs 1, ma hanno confermato, lo ha scritto Renan Galvani, io la prendo per buona come notizia, non ho avuto modo di leggere rapidamente, ma Renan non sbaglia mai o quasi, soprattutto quando si tratta di queste informazioni, ci sarà anche una modalità 11 contro 11 e questo sicuramente farà felici tanti giocatori che amano ad esempio l'11 vs 11 di FIFA o di Pro Evolution Soccer, anche goals lo avrà. Come sarà strutturata, eccetera eccetera, non lo sappiamo, però è una notizia molto interessante. Si parla anche di un play to earn, cioè ti pagano per giocare, però attenzione, e qui arriva la notizia un po' meno bella, anche goals avrà gli NFT. Cosa sono gli NFT? Questo sarà un tema su cui torneremo spesso, secondo me, e non è detto che anche UFL avrà questa modalità, intanto qui si dice addirittura che dovrebbe esserci anche il 2 vs 2, il 3 vs 3, un 5 on out 5 side e un 11 vs 11, quindi vi ho detto una informazione giusta ma non del tutto piena, nel senso ci saranno tante altre modalità, ci sarà anche il 2 contro 2, il 3 contro 3, un 5 side, quindi tipo calcetto, e un 11 vs 11 mods, che è molto molto interessante. Però vi dicevo, gli NFT token non fungibili, cosa sono? Sono degli elementi unici, esclusivi di proprietà di un bene virtuale, eccolo qui, la crescita degli NFT, e che sostanzialmente avranno un loro marketplace, diciamo, indipendente. Voi comprate da goals un NFT, non so, un giocatore unico e lo potete rivendere. Capite che ci saranno aste, ci sarà, sì, sarà un air to play perché ti daranno degli NFT oppure dei crediti per acquistare gli NFT, ma dopo ci saranno delle aste terribili, terribili. Lo sapete, a me non piacevano le microtransazioni e lo confermo che non mi piacciono le microtransazioni, secondo me gli NFT saranno un qualcosa di ancora e molto molto peggiore delle microtransazioni, perché saranno ancora più un pay to win, perché ripeto, voi comprate una carta che non è riproducibile, si va all'asta, vale sempre di più, vale sempre di più, e vi immaginate che il pay to win sarà terribile. E credo, credo che prima o poi anche FIFA, anche i football, se non già anche gli UFL, probabilmente introdurranno questi terribili NFT. Secondo me sono terribili, perché ripeto, se ancora ancora già le microtransazioni non mi fanno morire, con gli NFT diventa ancora più esclusivo avere una carta per cercare di vincere. Ecco, qui si parla del play and earn, cioè gioca e guadagna, ma eccoli qui, gli NFT se ne parla bene, comunque se volete potete leggere sul sito. Quindi sì, potete guadagnare, ma poi dopo bisogna anche spendere, cioè, intanto prima c'era solo il free to play e le microtransazioni, adesso c'è addirittura il play e guadagna, ma al contempo c'è anche il discorso degli NFT. Cioè, ripeto, gli NFT, se prima, come in FIFA, scusate, come in PES, acquistavate le monete per comprare degli oggetti che comunque erano a disposizione di tutti, immaginate un domani, non so, che Maradona o una versione speciale di Maradona sarà disponibile solo per un giocatore con gli NFT. Insomma, a me non piace questa piega che stanno prendendo i videogiochi, non solo quelli di calcio, ma contro il progresso, tra molti virgoletti il progresso, è difficile andare. Quindi comunque questa è la situazione dei goals. Aperto il sito ufficiale, c'è un team di sviluppo in cui però devono essere aggiunte altre persone e non sono tantissimi, come avete visto gli elementi. NFT, play and earn, 11 versus 11, 2 contro 2, 3 contro 3, 5 a testa, quindi tipo calcetto. Insomma, sarà da seguire, GOLZ, sarà da seguire e sapete che vi dico, ci guardiamo un attimo il trailer, se ancora non l'avete visto. GOLZ, è un gioco che guadagna sempre, l'abbiamo detto, gli sforzi beni. Sa un gioco molto incentrato su multiplayer. GOLZ, 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 Domenico. GOLZ, 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 GOLZ,GOLZ,GOLZ, GOLZ, GOLZ,GOLZ, SLrom. Ridiamo il football ai giocatori. Sì, però bisogna un po' vedere poi come andranno tante altre cose. D'accordo, tutto questo era GOLZ. Se avete domande, lasciatele nei commenti, ve ne... Vi risponderò appena possibile. Se siete arrivati qui per caso e volete seguire il canale, iscrivetevi, attivate le notifiche anche per la zona community dove ci sono spesso notizie, aggiornamenti non video, testuali o di immagini. Al prossimo video e grazie per l'attenzione. Ciao!